Activision presenta un ritorno inaspettato sviluppato da Vicarius Visions Crash Bandicoot Crash Bandicoot Crash Bandicoot Ma, Dottor Cortex, non sappiamo perché non ha funzionato in passato Sciocco! Questo Bandicoot sarà il mio generale e guiderà le mie truppe Cortex alla conquista del mondo La vittoria sarà mia! E ora ci siamo! Resto nel vortice! Vortice? Il vortice non è pronto! Ma non abbiamo idea di che cosa succederebbe... Ennesimo fallimento Catturatelo! Preparate il Bandicoot Fiammina! Non è bene, non è inся động Structure di prima Corso del Budents Non è un'epoca Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.